Buongiorno, riprendiamo questa mattina il capitolo sedicesimo di Matteo e leggiamo i versetti dal 24 al 28. Gesù ha appena annunciato ai discepoli per la prima volta che a Gerusalemme sarebbe stato messo a morte e subito chiede loro se sono disposti a stare con lui. Tre sono le cose necessarie per stare con Gesù, rinnegare se stessi, prendere la croce ed infine seguire. Rinnegare sé è sinonimo di umiltà. Per prendere la croce senza cedere al lamento è necessario avere molta pazienza, mentre per essere disponibili a seguire un altro ci vuole tanto amore. Umiltà, pazienza e amore sono dunque le tre virtù coltivando le quali possiamo essere certi di ritrovarci insieme a Gesù. Chi non è umile o paziente e chi non vive l'amore difficilmente è vero discepolo di Cristo, ricordatevelo sempre. Ma chi vive in questo modo significa che sta mettendo la propria vita, fetti e progetti personali al secondo posto. Ciò che gli interessa non è anzitutto il raggiungimento di obiettivi prefissati, costi quel che costi. Perché se fosse così, uno andrebbe incontro a gelosie, soprusi e inganni. Bisogna essere disposti al sacrificio per arrivare a toccare la felicità. Perché la vera felicità non la si trova spuntando tutte le voci del nostro elenco delle cose da fare. La vera felicità, cari amici, apriamo gli occhi e aguzziamo l'intelligenza. La vera felicità consiste solo e appunto nello stare con Gesù. Possiamo anche vincere la lotteria, ma se siamo lontani da Lui saremo solo più ricchi, ma non più felici. Potremmo anche rivalerci e riscattarci contro un nemico, ma senza Cristo saremo sempre insoddisfatti. Cerchiamo dunque di avere in mente sempre queste tre parole, umiltà, pazienza e amore. Viviamole in ogni circostanza, perché con esse ci è stata promessa la vera felicità. Io per oggi vi saluto, ci vediamo a presto. Ciao! Ciao!